Buonasera gentili amici ed amiche della Lega Calcio 8, un cordiale saluto che vi giunge dalla Longarina dove per la seconda giornata di campionato si affrontano Mr. Jeff e Cotton Club a caccia dei primi punti stagionali dopo le sconfitte all'esordio. Le due squadre hanno effettuato il loro ingresso in campo in questi secondi e stanno portando a termine le operazioni preliminari. Al calcio d'inizio della sfida attaccherà da sinistra verso destra in maglia rosso-nera il Cotton Club di Mr. Pinna mentre da destra verso sinistra risponde il Mr. Jeff di Mr. Ricci. due formazioni, quelle che si affrontano questa sera che come dicevamo in precedenza sono erotici da due sconfitte maturate entrambe al ciriaci, il 2-3 patito dal Cotton Club da parte dell'M Servizi Gianicoli in rimonta in una partita anche forse incredibile per certi versi e la sconfitta sempre in rimonta per 4-1 quindi con un parziale purtroppo per loro più doloroso da parte del Mr. Jeff il 4-1 inflitto dalla San Giovannella Mr. Jeff che aveva trovato il vantaggio ma che poi ha subito il ritorno dei padroni di casa due squadre che si trovano quindi a zero punti dopo una giornata ovviamente il cammino è ancora lungo, sono passati solo 50 minuti dal fischio d'inizio del campionato e dunque alcun giudizio può essere formulato sulle risultanze di una sola partita. La partita è dunque iniziata con il tiro da centrocampo del Cotton Club che ha provato ad impensierire subito Scarsella senza fortuna però allora Scarsella che va a rinvio con le mani subito un rimpallo intercetta Francucci allora attacca ancora il Mr. Jeff con Angelelli che prova un numero che non riesce la rimessa per il Cotton Club allora con Nolano che gira il pallone allora può ricominciare Zamperini per la formazione di Mr. Pinna Zamperini si poggia su Innocenzi Zamperini che sembra aver cominciato in posizione più arretrata questa sera mentre attenzione subito alla spizzata di testa di Lefevre potrebbe essere un fattore di questa gara senza successo il tentativo offensivo del Cotton Club allora può ripartire sulla destra la formazione padrone di casa però l'ottima chiusura del Cotton Club c'è ora forse un fallo così è ai danni di Simone Di Innocenzo con il pallone già battuto sui piedi di Pastorelli Pastorelli apre su Di Innocenzo che era in realtà da questa parte il numero 18 attenzione ora ancora Pastorelli che deve andare a spazzare l'area di rigore allora non riesce a proporsi Angerelli nulla di fatto, calcio di punizione per il Cotton Club rettifichiamo quindi il terzino destro se così vogliamo definirlo della formazione di Mr. Ricci che non è di Innocenzo bensì peretti due elementi dello zoccolo duro della formazione all'idenza che da anni vestono i colori bianconeri dei padroni di casa attenzione all'Innocenzi che anticipa il diretto avversario allora ancora Zanni per il Mr. Jeff va da Peretti che cerca l'1-2 poi Angerelli rende il pallone di ginocchio prova Zanni senza fortuna allora ancora il Cotton Club che cerca un fraseggio complicato riesce forse a far toccare il pallone ad un avversario a portare a casa la rimessa con le mani la formazione in maglia rosso-nera così è si occuperà Alessandro Zamperini della rimessa in realtà rende il pallone ad un compagno affinché se ne occupi lui battuto in questo istante la rimessa con le mani con Artistico che se ne va bene in mezzo a due ancora il numero 11 cambia passo Artistico che poi sbaglia il tocco ma c'è un fischio del direttore di gara di Giampaolo Morsa che ravvisa con irregolarità i danni di Mario Artistico è stato l'altro capitano Guido Francucci ad andare a commettere fallo e allora prima occasione potenziale della gara con Artistico che al primo cambio di passo porta a casa una punizione da posizione anche piuttosto invitante lui e Nolano sul punto di battuta Nolano che andrebbe col destro mentre col sinistro si prepara Artistico il direttore di gara dispone la barriera per quella che potrebbe essere la prima occasione potenziale della gara va Artistico col Mancino in porta c'entra forse un compagno però il pallone viene rinviato dalla difesa del Mr. Jeffery parte Zanni molto bene attenzione ancora Zanni non sa chi passarla e poi torna Nolano ancora Zanni le finte rientra sul Mancino è triplicato ricomincia da Francucci che va da d'innocenza un errore in fase di controllo per il numero 18 che si porta il pallone a lato e dunque piccola ingenuità da parte del numero 18 che su una transizione offensiva che poteva essere interessante per il Mr. Jeff non controlla bene già battuta la rimessa allora attenzione al pallone però riconquistato da 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 Angelelli per il Mr. Jeff non c'è fallo si continua a giocare cerca il tocco Francucci una serie di rimpagli allora ancora Nolano ma c'è un uomo a terra fischia in maniera tempestiva il direttore di gara andando a sospendere il gioco affinché si possano prestare le cure del caso all'effetto del Mr. Jeff rimasto sul terreno di gioco in questo caso ovviamente la partita riprenderà con una palla contesa che presumibilmente verrà restituita da Francucci a Santarelli così è e allora si riparte con la rimessa dell'estremo difensore con le mani per Zamperini il tocco è per Mari poi cerca artistico ma anche questa volta artistico ha qualche difficoltà in fase di controllo anche questa volta perché pochi secondi fa era stato d'innocenso a mancare il controllo ovviamente la considerazione era di stampo generale vediamo che Angelelli viene ancora una volta chiuso in fallo laterale non riesce il numero 20 uno dei volti nuovi di questo Mr. Jeff 2014-2015 a rendersi pericoloso non riesce a sfondare la formazione padrone di casa allora riparte il Cotton Club con Andrea Innocenzi che ha preso la sinistra il pallone giocato su artistico che prova l'imbucata per Mele che però non riesce a arrivare sul pallone dall'altra parte Zanni attaccato senza fallo da Innocenzi che lo chiude in fallo laterale si accontenta di una tuscia il numero 19 del Mr. Jeff rimessa che verrà battuta da Innocenzi attenzione ancora Zanni chiuso ancora una volta in fallo laterale il fallo laterale questa volta però è per il Cotton Club perché è stato proprio Zanni a toccare il pallone per ultimo e là può andare Innocenzi per i rossu-neri il tocco è per il numero 9 Lefevre poi sul proseguo dell'azione spazza la difesa del Mr. Jeff nulla di fatto ancora una volta il pallone tra i piedi di Innocenzi che va da Nolano da Nolano per Zamperini manovra il pallone nella propria metà campo c'è il pressing alto di Bonanni attenzione all'errore di Santarelli cerca un qualche cosa che non si concretizza Angeli poi la conclusione di Francucci ampiamente a lato prova col Mancino il numero 10 ma con equilibrio precario non trova la porta possiamo considerarlo il secondo tiro della gara anche se è scarsamente pericoloso dopo il calcio di punizione di Artistico rimpallato prima che potesse arrivare in porte allora è una partita che ancora non offre grandi spunti nonostante non lesinino impegno le due squadre attenzione allo sganciamento di Zanni lo vedono ora i compagni di squadra il numero 19 prova il numero il pallone rimane là ancora Zanni all'imito di radio palo e poi si salva Santarelli palo di Zanni il primo brivido della gara esce ora il Cotton che è scampato il pericolo prova a riproporsi sulla sinistra con il bel pallone per Mari che dalla sinistra lo metteva artistico col Mancino in cielo il numero 11 scarsella per il Mr. Jeff fa ripartire il gioco attenzione al pallone giocato dalla sinistra per Bonanni l'anticipo di Nolano il pallone rimane lì allora Mele con la testa cerca un tocco per le febre viene alzato un campanile allora ancora il Mr. Jeff con il numero 4 Bonanni che viene anticipato poi prova a D'Innocenzo viene chiuso dalle febre ripartino Lano l'altro numero 4 quello della formazione ospite che imposta andando ad aprire sulla sinistra lo fa bene ma è sbagliato il controllo e allora può uscire Pastorelli che a testa alta va da Francucci che fa ricominciare il gioco ancora una volta da D'Innocenzo che torna da Pettorelli molto bene il numero 5 autoritario e sempre molto carismatico nel guidare le uscite anche palla a piede della terza linea della formazione di Mr. Ricci attenzione ora a Francucci che cerca e trova Angelelli defilato sulla destra si propone ancora il numero 10 ma si ricomincia da Peretti che cambia gioco per D'Innocenzo ancora qualche difficoltà nel controllo per D'Innocenzo che poi va alla conclusione senza trovare però la porta quando siamo arrivati al nono minuto di questa prima frazione ancora 0 a 0 tra Mr. Jeff e Cotton Club con la prima occasione della gara almeno se parliamo di occasioni concrete con il palo colpito da Zanni che ha fatto correre un brivido lungo la schiena di Santarelli ma attenzione ora a Nolano torniamo in cronaca cerchio di centrocampo il numero 4 affrontato da Francucci che gli porta via il pallone poi c'è anche fallo di Nolano che viene ammonito trattenuta evidente del numero 4 della formazione del Cotton uno dei danni dell'esperto Francucci che ne anticipa le intenzioni e gli va a portare via il pallone vistosi privato della sfera il numero 4 ricorre al fallo tattico onde evitare una ripartenza del Mr. Jeff che riparte con il calcio di punizione battuto da Pastorelli che apre per d'innocenza attenzione col mancino il numero 18 va da Zanni lato corto dell'aria la mette in mezzo Zanni e c'è un gol fantastico di Bonanni il vantaggio del Mr. Jeff ma che gol di Bonanni anche se necessitiamo forse di un'errata corrige perché la denunazione è piuttosto confuta ci era sembrato avesse colpito Bonanni in realtà l'abbraccio è stato per Angerelli al quale forse quindi possiamo attribuire la rete vantaggio del Mr. Jeff non cambia la sostanza il gol di Angerelli che dunque sblocca la gara e dopo lo squillo lo squillo targato Zanni passa in vantaggio la formazione Lidense rimessa con le mani per il Cotton che ora deve scuotersi dopo un inizio di gara piuttosto compassato attenzione Francucci tocca male ancora Mele per il Cotton che prova a metterle in mezzo mette una pezza Francucci con la punta tocca per Zanni può ripartire il Mr. Jeff Zanni solo contro tutti prova a servire Bonanni che però perde il pallone allora può ripartire l'Artistico per il Cotton la palla dentro per Lefebvre che però non riesce ad arrivare sul pallone troppo lungo il filtrante di Artistico buona l'idea ma il numero 9 pur tagliando l'area di rigore del del Mr. Jeff non riesce ad arrivare per tempo sulla sfera attenzione al lancio per Bonanni troppo lungo e allora Santarelli questa volta la può far sua con relativa calma attenzione a Nolano che retrocede proprio da Santarelli che la controlla attaccato da Zanni che va a chiudere su Innocenzi il rilancio lungo di Santarelli stacca bene Pastorelli anche se c'è una chiamata del direttore di gara viene ravvisata un'irregolarità ai danni dei calciatori del Cottone e allora attenzione perché da calcio piazzato artistico sa come far male alle difese avversarie già pochi minuti fa avrebbe trovato la porta se il suo tentativo non fosse stato respinto da un compagno potrà riprovarci ancora una volta c'è anche l'opzione Nolano con il destro presumibilmente andrà il Mancino con il numero 11 arriva ora il fischio va col Mancino ribattuto dalla barriera si continua a giocare ancora Innocenzi la sfera rimane lì si salva il Mr. Jeff che riparte ora col pallone lungo su Zanni anticipato da Innocenzi allora è Mele che alza un pallone in aria di rigore attenzione al movimento dei calciatori del Cotton Club che entrano in aria e poi con artistico non trovano la porta ma c'è corner direttore di gara che è intervenuto per fermare il gioco è rimasto a terra il numero 2 Peretti sullo sviluppo dell'azione della conclusione di artistico forse deviata il contrasto che però non ha lasciato segni sulla caviglia di di Peretti contuso a terra non c'è fallo però a giudizio del direttore di gara solamente corner corner che verrà battuto dallo stesso artistico che va col mancino area vuota del Mr. Jeff sarebbe stato uno schema che viene però interrotto dal fischio del direttore di gara abbiamo visto come stessero entrando tutti insieme i calciatori del Cotton Club all'interno dell'area di rigore della porta difesa da Scarsella tutto da rifare va artissimo col mancino sul secondo palo non arriva Innocenti in tempo nulla di fatto quindi per Innocenzi che arriva col col passo troppo lungo e allora col mancino non trova la porta ma attenzione al fraseggio difensivo del Mr. Jeff poi di Innocenzo si porta fuori il pallone rimessa per il Cotton un'attenzione artistica e prova la rovesciata ce l'ha nel repertorio è un colpo che ci ha già mostrato e che ha già deliziato i palati raffinati degli amanti della Lega Calciotto artistico questa volta senza fortuna allora torniamo in cronaca perché attacca sull'auto di sinistra il Cotton Club che viene chiuso in questo istante poi c'è un malinteso tra Bonanni e Angerelli che regalano una rimessa al Cotton Club Cotton Club che ora con Innocenzi va da Nolano da Nolano per artistico messo ancora a terra il terzo calcio di punizione che si guadagna dalla stessa zolla il Cotton Club vedremo se questa volta l'esecuzione sarà più fortunata per la formazione ospite come al solito Nolano con il destro e artistico con il sinistro dopo due conclusioni del numero 11 potrebbe essere anche Nolano a tentare la conclusione vedremo come la sfrutteranno i ragazzi del Cotton Club va Nolano col destro il miracolo di Scarsella in corner corner per il Cotton Club miracoloso Scarsella deviare in angolo il destro di Nolano e questa volta la fa sua in maniera molto più tranquilla il portierone della formazione padrone di casa che va a rinvio con i piedi stacca la difesa del Cotton rimessa con le mani per il Mr. Jeff rimessa che verrà battuta da Angelelli mentre viene chiamato ora un time out dal direttore di gare ci interrompiamo allora per qualche istante si sta per riprendere a giocare alla Longarina e ribadiamo il ricordiamo il parziale che vede il Mr. Jeff di Massimiliano Ricci in vantaggio per 1-0 sul Cotton Club attenzione all'azione che dalla destra non trova però un esito positivo sul cross di Angelelli con Angelelli che poi in scivolata crossa sul fondo nulla di fatto allora Innocenzi va a correre in via lungo a cercare artistico troppo per il numero 11 era andata la sventagliata col Mancino il calciatore senza maglia della formazione ospite ancora un lancio lungo questa volta a cercare un calciatore in maglia bianca attenzione a Mele attaccato da Bonanni che gli chiude che gli sbarra che gli sbarra la strada ma che comunque gli concede una rimessa con le mani Mele la batte ora per le febbre la spizzata per artistico c'è però Pastorelli che fa buona guardia e allora Scarsella può far ripartire con tranquillità l'azione poi Pastorelli per Bonanni poi ancora da Mister Jeff col pallone che viene perso da Angelelli c'è anche qualcosa da ridire tra Angelelli e Nolano il direttore di gara che ora discute anche con Zamperini e battuta nel frattempo la punizione viene estratto un cartellino giallo il gioco dovrebbe essere fermo così è perché il direttore di gara avoca se il pallone e farà ripartire una seconda volta il gioco dal momento che ovviamente l'azione di Pocanzi si era svolta con il gioco interrotto è Zamperini che va quindi alla battuta del calcio di punizione andrà col Mancino il numero 7 che cerca l'imbucata attenzione alle fevre c'è un'altra chiamata del direttore di gara una trattenuta di le fevre a Peretti allora calcio di punizione questa volta per il Mister Jeff Mister Jeff che quindi andrà con Scarsella alla ripresa del gioco Mister Jeff avanti per 1-0 qualche protesta dei calciatori il Cotton per il punto nel quale viene battuto la punizione allora Zanni se ne va bene c'è un tocco di Mele l'arbitro non lo ravvisa non c'è né fallo né deviazione allora rimessa per i rossoneri attenzione Innocenzi lascia Mele Mele alza la testa va da un compagno c'è il pressing di Bonanni che va a vuoto allora Innocenzi col Mancino attenzione voleva servire Zamperini ma gli mette il pallone quasi all'altezza del corner il numero 7 alza la testa va col Mancino per il numero 2 Mele e alla fine i ragazzi in maglia rossonera finiscono per perdere il possesso della sua era con il rilancio di Zamperini troppo lungo per Mele rimessa con le mani per il Mister Jeff se ne occupa di Innocenzo il tocco per Francucci che gli rende il pallone riesce a tenere il campo di Innocenzo poi il tocco per Bonanni viene sporcato con la punta della testa del Cotton Club ma era un pallone molto invitante Innocenzi per Nolano Nolano che va da Zamperini è un Cotton che cerca di guadagnare metri adesso c'è la sponda di Lefevre ma esce bene Zanni che poi tocca male allora Innocenzi va da Nolano attenzione palla sul destro c'è Scarsella ancora una volta di Innocenzo spazza in qualche modo Nolano di testa torna da Zamperini che a sua volta si affida a Santarelli Santarelli va con il destro lungo stacca la stacca Pastorelli il pallone rimane lì termina ancora una volta a terra artistico e c'è non c'è fallo c'è un time out chiamato dalle panchine e allora ci fermiamo ancora una volta per qualche istante sta per riprendere la contesa qui alla Longarina con il Cotton Club che sta per andare alla battuta di un calcio di punizione mentre in panchina dismette la felpa Andrea D'Avello ed è pronta a dare il suo contributo alla squadra lui uno degli uomini più rappresentativi anche egli parte integrante dello zoccolo duro del Mr. Jeff squadra storica della Lega l'anno scorso una stagione complicata vorrà sicuramente riscattarsi ma torniamo in cronaca come al solito la coppia composta da Nolano e artistico sul punto di battuta del calcio di punizione ci ha provato prima Nolano ora la finta per artistico al mancino Scarsella ancora miracoloso corner che verrà battuto dalla destra proprio di Scarsella pallone messo sul secondo para Zamperini ancora Scarsella il pallone rimane là e si salva ancora la difusione del Mr. Jeff poi rilancio per D'Avello che non riesce a controllare e allora Nolano che apre sulla sinistra c'è la conclusione volante ci ha provato ancora una volta un Cotton Club che però negli ultimi minuti ha preso sempre più possesso della metà campo avversaria con un Mr. Jeff che dopo il gol del vantaggio si è abbassato pericolosamente non riuscendo più a costruire occasioni da rete attenzione Rod Innocenzo che prova a andar via alle febbre torna alle febbre di Innocenzo subisce fallo lascia la battuta a Francucci poi Bonanni ancora Francucci bene per D'Avello non c'è fallo attenzione però perché D'Innocenzo prova il Mancino bravo il numero 18 che però non trova la porta bravo bravo comunque a proporsi D'Innocenzo col sinistro non riesce ad angolare abbastanza riparte il Cotton Club con il pallone per uno scatenato artistico poi Bonanni che apre sulla destra c'è il pallone messo in mezzo per D'Avello che la mette giù il numero 11 viene chiuso D'Indnocenzo rimane là la sfera D'Avello combatte con l'avversario poi termina a terra non c'è nulla e il direttore di gioco il direttore di gara chiedo scusa indica che il gioco debba riprendere con la rimessa dal fondo rimessa dal fondo già effettuata si sgancia sull'out di destra Daniele Greco per il Cotton non viene servito perché l'azione si sviluppa sulla sinistra allora attenzione alla formazione di Pinna che va alla conclusione con Mari un tiro cross del numero 3 che sfida sul fondo non c'è stata deviazione sull'incorsione di Federico Mari uno dei giocatori più talentuosi della formazione del Cotton Club insieme a Artistico insieme a Nolano insieme poi ovviamente allo spietato Lefevre attenzione ora rischia decisamente troppo Zamperini poi Santarelli va a rinvio in qualche modo d'innocenza il tocco per Davello c'è il ritorno da parte di Greco che poi serve Lefevre che punta Francucci Lefevre dal fondo va al destro colpisce il palo fa tremare la porta o il sostegno dietro la stessa il numero 9 non siamo riusciti a comprendere in pieno se abbia effettivamente centrato il legno il numero 9 del Cotton Club ma attenzione ha proprio ancora Lefevre che va in pressing su Scarsella che riesce a rinviare c'è ora un fischio del direttore di gara quindi calcio di punizione per il Cotton Club già battua la punizione attenzione ancora alla formazione ospite però questa volta Mari ingenuamente controlla male anche lui non è la prima volta in questo primo tempo regala di fatto una rimessa con Davello che termina a terra lavora spesso e volentieri a contatto col marcatore avversario il numero 11 del Mr. Jeff questo lo porta poi in più di una circostanza però a terminare a terra in questo caso non c'era fallo di innocenzo di testa innocenzi il quasi omonimo per Nolano attaccato dal corrispettivo numero 4 in maglia bianca Bonanni poi l'apertura col mancino a cercare artistico stacca bene stacca bene Pastorelli il pallone rimane l'artistico col mancino la mette giù l'entrana ed è ancora artistico termina a terra ma non c'è fallo e allora può ripartire da un più falcato e Bonanni 3 contro 2 mister Jeff Bonanni viene chiuso da innocenzi monumentale ancora un rovesciamento di fronte attenzione alle febre il tocco è per Nolano porta vuota Nolano la mette in mezzo alle febre chiuso in qualche modo da la difesa si deve decentrare il numero 9 ancora il cotton le febre la mette in mezzo o meglio ci prova perché Pastorelli esce a testa alta e su questa azione arriva il fischio finale della prima frazione 1-0 mister Jeff dopo i primi 25 minuti di nuovo collegati con la lungarina dove sta dove sta per iniziare il secondo tempo della sfida valevole per la seconda giornata della serie A della Lega Calcio 8 tra mister Jeff e Cotton Club secondo tempo che è iniziato ora con la conclusione verso la porta di Santarelli parata ricordo il parziale che vede la formazione di casa i lidensi del mister Jeff in vantaggio per 1-0 sul Cotton Club con il gol di Angerelli su un bel cross di Federico Zanni ma torniamo in cronaca c'è un calcio di punizione per il Cotton Club Cotton Club che dopo i primi 15 minuti si è come svegliato presidendo la metà campo avversaria senza fortuna mentre ora c'è questo pallone messo in mezzo Zamperini attaccato da un avversario Peretti che lo chiude vediamo il pallone termina in corner sul tocco del numero 2 Peretti che è andato a chiudere l'aitante numero 7 prima che potesse mettere in mezzo il pallone porta a casa comunque un corner corner che verrà battuto con il Mancino al veleno del numero 11 artistico che va ora sul secondo palo ma va Pastorelli su Zamperini si continua a giocare poi il tocco di Lefebvre ancora per artistico non si capiscono i due e il pallone termina direttamente oltre la linea che delimita la fine del campo e quindi Schiarzella può andare con relativa calma al rinvio lo fa con le mani il numero 1 della formazione dei padroni di casa Francucci solito faro della manovra dei ragazzi di Mister Ricci viene ora anticipato e allora può ripartire il Cotton Club con l'azione che proviene interrotta ancora Francucci vediamo se arriva Morosini no viene anticipato dal ritorno di Innocenzi che si invola col Mancino Innocenzi ne punta 2 il secondo Peretti gli porta via il pallone ma gli concede comunque una rivessa con le mani va Innocenzi per Mari palla sul Mancino il numero 3 va al cambio di gioco per Lefebvre Lefebvre che non riesce a tenerlo sul rettangolo verde e allora ancora rimessa questa volta però per l'altra squadra e dall'altra parte del campo attenzione a Bonanni che ringhia sul numero 2 Mele senza fortuna Mele che poi va a scaraventare nella metà campo avversario un pallone che non impenserisce Scarsella mentre Peretti cerca e trova Davello Davello che nel difendere il pallone riesce a portare a casa una rimessa con le mani e proprio Peretti con un nuovo look per la stagione 2014-2015 in campo come al solito sull'auto di destra per il Mr. Jeff Peretti che però tornando a parlare di pallone in questa circostanza non riesce a tenere il pallone proprio all'interno del rettangolo verde allora già battuta la rimessa con il tocco di Lefebvre che però non si capisce allora può ripartire Bonanni per il Mr. Jeff Bonanni si accontenta della rimessa rimessa che verrà battuta da Mariani Mariani va con le mani a cercare Davello svetta la difesa dei rossoneri poi Mari alza un campanile prova artistico il tocco di mano involontario ancora il numero 11 bene per Lefebvre che vince il contrasto con Peretti ma esce Pastorelli il tocco è per Morosini la mette giù col petto gli ha portato di Innocenze allora ancora Mari anticipato dal solito D'Innocenzo allora ancora Bonanni proprio per D'Innocenzo il pallone potrebbe arrivare a Davello così non è perché glielo va a contendere Alessandro Zamperini che vince anche il diritto alla battuta della rimessa con le mani rimessa già battuta allora Mari attaccato da due avversari Francucci lo sbilancia ma gli tocca il pallone in fallo laterale Mari lascia l'incombenza della rimessa a Innocenzi da Innocenzi a Greco attenzione al numero 5 va D'Alefebvre ancora il numero 9 prova l'uno contro tutti con la difesa del Mr. Jeff ma porta a casa comunque un calcio di punizione il numero 9 che di fatto non si è mai tirato indietro quando si è trattato di fare la lotta con Pastorelli D'Innocenzo e Peretti anche se in misura minore con il numero 2 che occupa un'altra porzione di campo e allora la quinta o la sesta abbiamo perso il conto ormai punizione in posizione offensiva dalla stessa Zolla lo ribadiamo per il Cotton Club questa volta sul pallone sembra essere solo il Mancino di Artistico non c'è Nolano e allora presumibilmente il pallone verrà toccato per il Mancino di Artistico o Mari va Artistico col Mancino e fa 1 a 1 non perdona Mario Artistico e la rimette in parità il Cotton una rasoiata del numero 11 che non lascia scampo a scarsella e allora tutto da rifare per il Mr. Jeff che dopo essere passato in vantaggio nel primo tempo con il gol di con il gol di Angelelli è ora raggiunto dalla punizione di Artistico attenzione ora a Bonanni che prova col Mancino un tentativo un po' velleitario del numero 4 mentre attenzione all'uscita di Pastorelli che va a vuoto ma non non paga dazzo la formazione di Mr. Ricci che porta a casa anche una rimessa con le mani perché Pastorelli non ha toccato attenzione ora a Francucci che commette un'infrazione ravvisata dal direttore di gara alzando troppo il pallone sulla testa di Greco e allora un'altra punizione per il Cotton Club artistico che pochi minuti fa ha inchiodato Scarsella ovviamente vorrà ripetersi anche se la distanza è nettamente più grande rispetto a quella della punizione della quale ha trovato il pareggio sembra comunque volerci provare Mario Artistico c'è il pallone toccato ora per il numero 11 che non trova la porta ma non di poco va a rinvio Scarsella con le mani forse troppo corto c'è un tocco con le mani di Innocenzi Morosini comunque si porta a casa la rimessa con le mani già battuta Bonanni cercava D'Avello che svaria molto sul fronte offensivo ma non è ancora riuscito a liberarsi al tiro il calciatore in maglia numero 11 mentre ora Lefevre cercava Mari buona l'idea ma un po' impreciso del tocco Morosini un rimpallo che non gli sorride Mari ancora da Lefevre il numero 9 molto bene in questo secondo tempo lascia il pallone ad Artistico il dribbling del numero 11 e l'ennesima punizione di Artistico ancora una volta ridosso della tre quarti campo avversaria regala una chance molto interessante alla formazione ospite con Artistico che ovviamente dopo aver preso le misure alla porta di Scarsella vorrà sicuramente ripetersi un paio di tentativi di rodaggio per Artistico che appunto nel primo tempo non andati a segno il gol ad inizio di secondo tempo e ora un'altra chance ancora per il numero 11 se sarà lui ad andare alla conclusione sembra però così perché Innocenti si allontana va Artistico il mancino deviato alto sopra la traversa Artistico che si occupa della battua di tutti i calci da fermo del Cotton Club va ancora col mancino e questa volta si salva Bonanni per il Mr. Jeff mentre c'è un pallone rimesso in mezzo da Mari ancora Bonanni è andato a spazzarlo via in qualche modo rimessa con le mani per un Cotton Club che fondamentalmente dopo la metà della prima frazione ha preso in mano le retine del gioco attenzione Artistico che prova col destro non è il suo piede ma esce di un nulla poco preciso il tentativo con il destro di Artistico che quindi non riesce a impensierire Scarsella è un Mr. Jeff che però sta cercando di trovare nuove soluzioni per rendersi pericoloso attenzione però perché attacca nuovamente il Cotton con il pallone di Artistico per il taglio di Greco che però capisce tardi le intenzioni del compagno e non scatta può uscire il Mr. Jeff almeno ci prova attenzione Bonanni posizione dalla destra il tocco è per un compagno per il nuovo entrato Reina che va subito a affrontare senza successo Greco allora ancora Artistico scatenato Artistico c'è il fallo di Mariani per Artistico che stava andando alla conclusione verso la porta ma Artistico sta spaccando la partita in due con dei cambi di passo e delle accelerazioni devastanti il numero 11 mette a ferro e fuoco la metà campo avversaria tagliando il campo in senso in senso verticale e ancora una volta serve ormai un pallottoliere per tenere conto solo dei calci di punizione procacciati da Artistico per il Cotton Club dunque l'ennesima chance da calcio di punizione chiedo scusa si è reso pericoloso quasi sempre con tiro da punizione il Cotton Club e ovviamente lo schema è lo stesso spalla sul mancino di Artistico e si aspetta la conclusione del numero 11 attenzione non è però lui ora va Nolano col destro sul muro e allora secondo tentativo per Nolano che nel primo tempo ha trovato il miracolo di Scherzella questa volta è andato di potenza il numero 4 sul muro difensivo del Mr. Jeff che stringe i denti e ora c'è il fallo su Pastorelli mentre ora viene ammonito anche Scherzella evidentemente proteste troppo animate per l'estremo difensore del Mr. Jeff mentre attenzione perché Scherzella rischia grosso rischia grosso perché già ammonito continua a protestare con con Morza Morza che tollera in realtà la reiterazione da parte di Scherzella delle proteste anche se dovrebbe mantenere i nervi saldi l'estremo difensore perché l'ultima cosa che serve al Mr. Jeff in questo istante è di rimanere con un effettivo in meno sul terreno di gioco attenzione a Peretti va da Pastorelli uno dei migliori in campo tra le fila del Mr. Jeff il tocco è per il numero 6 Reina che poi porta a casa una rimessa con le mani Reina che è andato a dare il cambio a Francucci ed è una delle valide alternative di cui si può freggiare Mr. Ricci in questa stagione attenzione ancora a Reina cerchio di centrocampo il pallone carambola dalle parti di Innocenzi poi Greco in qualche modo attenzione Peretti rischiava di servire il numero 3 Mari poi si salva il Mr. Jeff in qualche modo attenzione a Pastorelli sbagliato il tocco Innocenzi va da Greco attenzione Greco palla sul destro la lavora bene il numero 5 che si accentra va dal compagno in maglia numero 3 che trova il gol del 2 a 1 Federico Mari la ribalta il Cotton Club col gran mancino di Federico Mari 2 a 1 2 a 1 Cotton Club alla Lungarina completamente ribaltata la gara con i gol di Artistico e Mari 2 tiri mancini così possiamo definirli da parte del Cotton Club che di fatto annullano il primo vantaggio quello firmato da Angerelli e costringono il Mr. Jeff a inseguire la partita c'è ora una sponda di testa per per nessuno però l'aveva tentata il bomber Lefevre ma non si era inserito alcun compagno mentre dall'altra parte tiene in campo il pallone Zamperini si continua a giocare Nolano il tocco proprio per Lefevre che va al destro palo di Lefevre e poi Peretti salva il Mr. Jeff rimessa con le mani ancora per i rossoneri che ormai hanno in pugno la partita ma è così almeno dalla metà del primo tempo il numero attenzione di Lefevre che la mette in mezzo e arriva il 3 a 1 il 3 a 1 di Mari che in pochi minuti sembra chiudere la gara 3 a 1 Cotton Club alla Lungarina Cotton Club che prende in largo in questo secondo tempo due gol sono sicuramente un vantaggio recuperabile ma è un Cotton Club che dopo aver preso in mano le retini del gioco sin dalla seconda metà della prima frazione come diciamo in precedenza ha poi raccolto i dividendi del proprio investimento andando a realizzare tre reti nella ripresa mentre ora spazza la difesa del Mr. Jeff arriva Peretti che spazza male allora Innocenzi per Lefevre è solo torna ora Pastorelli Lefevre la mette giù va col destro ancora un palo va a scarsella Mr. Jeff che ora però è in balia delle folate avversarie un po' in confusione la formazione di Massimiliano Ricci che per tre volte ha dovuto capitolare e per due volte è stata salvata dal legno prova ora a rendersi pericolosa la formazione in maglia bianco nera il pallone rimane là però non ci va nessuno torna allora Lefevre che si appoggia ad un compagno l'ennesima sgroppata di Mari almeno tentativo di sgroppata da parte di Mari che si tocca il pallone in fallo laterale allora è D'Innocenzo che va al lancio lungo Zamprini testa sfiora l'autogol pericolo per Santarelli portato da un proprio compagno questo è il classico esempio di fuoco amico così possiamo chiamarlo corner per il Mr. Jeff battuto sul primo palo il pallone rimane là rimane a terra Innocenzi evidentemente colpito sugli sviluppi del calcio d'angolo nulla di grave per il numero per il numero per il calciatore senza numero della formazione del Cotton evidentemente colpito lì dove fa parecchio male perché batte i piedi nel tentativo di respingere il dolore i vecchi trucchi che talvolta hanno successo sembra comunque destinato a riprendersi il difensore l'ottimo difensore della formazione di Mr. Pinna attenzione ora a Pastorelli che perde il duello aereo con le febbre ma non non paga conseguenze della formazione padrone di casa ora Innocenzi un rinvio un po' sbilenco recupera ancora la formazione in maglia rosso-nera con Greco che cerca le febbre che gli rende il pallone troppo lungo allora Reina recupera la sfera ancora Mr. Jeff con il numero 6 che va centralmente c'è ancora un errore allora Greco palla sul mancino arriva Nolano scarsella coi pugni la sfera rimane là vediamo se riesce in qualche modo a uscire la formazione di Mr. Ricci con Mariani che però poi sbaglia malamente non trova il compagno e allora regala la rimessa al Cotton Club ancora artistico dopo aver rifiatato per qualche minuto anche se il ruolo da protagonista in sua assenza è stato degnamente preso da da Federico Mari autore di una doppiesta calcio di punizione tornando in cronaca calcio di punizione per il Mr. Jeff è una delle circostanze che possono aiutare i padroni di casa a rientrare all'interno di una gara che purtroppo per la formazione maglia bianconera sembra compromessa ma attenzione ora al calcio di punizione che verrà battuto da Reina con il destro in assenza di Francucci e Reina che sostituisce il numero 10 anche da questo punto di vista si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva ora va a Reina con il destro sulla barriera centra il polpaccio di Nolano e allora nulla di fatto quando siamo arrivati ormai al diciottesimo minuto della ripresa sette minuti e poco più per il Mr. Jeff per centrare una rimonta perlomeno complicata per quanto si è visto in questi primi in questi primi 55 minuti spazza la difesa del Cotton Club ovviamente i minuti non possono essere 55 e allora la matematica non è ovviamente un'opinione facciamo ammenda mentre ora c'è forse qualche provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara che si avvicina alle panchine annota qualcosa sul taccuino e ordina la ripresa del gioco particolarmente agitato Mr. Ricci che vede sfumare una partita preparata bene mentre ora un brivido lo regala anche Scarsella rimane colpito Peretti attaccato in maniera regolare da Greco Greco che ovviamente riconosce che riconosce l'illecito e va a chiedere scusa al numero 2 non cattivo il fallo del numero 5 che è arrivato fuori tempo su Lorenzo Peretti Peretti che però la botta l'ha presa anche abbastanza dura ribadiamo senza cattiveria un contrasto di gioco che comunque lascia il segno già battuto il calcio di punizione allora Bonanni che la mette in mezzo la spizzata di Tavello al lato di un nulla e adesso un momento di confusione con il mister Jeff che era andato a battere un corner che il direttore di gara non aveva concesso si riprende a giocare con artistico che prova ancora una volta il proprio micidiale sinistro viene rimpallato e chiuso in fallo laterale fallo laterale che verrà battuto da innocenzi e allora il difensore centrale di sinistra del Cotton Club che cerca e trova Nolano che gli rende il pallone la lavora con la suola il numero 4 poi è l'altro numero 4 Bonanni che fa carambolare il pallone addosso al corpo di un avversario facendo modo che la partita possa riniziare con la rimessa di Scarsella attenzione a Reina palla sul destro poi si poggia da Pastorelli il numero 5 si deve avvedere però dall'attacco di Lefebvre ma ancora il Mr. Jeff ci prova in tutti i modi la formazione di Mr. Ricci mentre c'è un tocco con il petto di Zamperini per Santarelli vediamo se Pastorelli arriva anche su questo pallone evita un'insidia più importante ma concede una rimessa e viene chiamato ora un time out dalle panchine ancora una volta una breve pausa per noi in posizione d'attacco ancora il Cotton Club riprendiamo la linea alla longarina con la formazione di Mr. Pinna che ha letteralmente ribaltato il risultato nel secondo tempo con il gol di Artisti che è la doppietta di Federico Mari conduce ora 3 a 1 il Cotton Club di Giuseppucci e appunto Mr. Pinna Cotton che è sulla buona strada verso il primo successo nella serie A della Lega Calcio 8 un successo meritato qualora arrivasse vediamo che ora c'è Bonanni che prova un tiro grosso interessante non ci arriva nessuno tra l'altro il numero 4 era stato bravo a tenere sul terreno di gioco un pallone complicato mentre ora va Angelelli a contendere la sfera a un avversario ci riesce in parte perché la tocca ma la sfera termina in laterale già battuto in laterale allora ancora artistico letteralmente scatenato cerca e trova Mari col marcino il pallonetto di Mari è un bijou che vale il 4 a 1 la chiuda a doppia mandata il Cotton Club con la tripletta di Federico Mari 4 a 1 Cotton Club è una serata che era iniziata nel migliore dei modi per il Mr. Jeff termina ora in maniera disgraziata stesso identico parziale della partita contro il Cottini e cosa ancora più preoccupante stessa dinamica nell'andamento della gara qualcosa sulla quale Mr. Ricci dovrà lavorare ma ovviamente potrebbe essere un discorso legato esclusivamente alla tenuta atletica di una squadra che storicamente ingrana al ritmo di un diesel attenzione ora ancora artistico che prova col mancino scarsella quest'olta la tiene giù e fa ripartire Peretti da Peretti per Bonanni Bonanni il tocco è per Morosini Morosini ancora per Bonanni scambia i due calciatori sull'auto di destra poi Morosini cerca in qualche modo Angelelli buona l'apertura non riesce però Angelelli a mettere giù il pallone allora rimessa per il Cotton va fuori tempo la difesa del Mr. Jeff che recupera ora con Morosini dalla destra va alla conclusione Morosini troppo esterno nel suo tentativo che termina alto sopra la traversa nessun problema per Santarelli che con le mani arriva all'altezza della tre quarti campo avversaria c'è Artistico che litiga e lotta con Peretti ma finisce per commettere fallo questa volta il numero 11 a perdere il duello con il numero 2 avversario attenzione a Bonanni bello il pallone che gli viene giocato in questo momento era stato Morosini in posizione di attaccante in assenza di Davello Morosini che ha provato una buona apertura troppo lunga per Bonanni attenzione ora ancora a Pastorelli palla sul destro va da Reina il numero 6 si accentra prova il destro si oppone Innocenzi in qualche modo e allora rimessa con le mani per il Mr. Jeff ancora Morosini che prova il cross c'è un tocco forse con la mano proprio di Innocenzi ma la distanza era comunque molto ravvicinata non potevano esserci i presupposti per la volontarietà Bonanni va alla battuola del corner la mette sul primo palo c'è il colpo di testa da parte di Morosini il pallone non esce e allora ancora Bonanni che poi prova un qualche cosa di estremamente complicato non riesce a trovare la porta pericolo schiampato per il Cotton Club che va ora a cercare di proporsi ancora con Lefebvre ora Mariani cerca senza fortuna il numero 9 Christian Parisi del Mr. Jeff ne ho entrato e ne ho acquisto anche lui ovviamente è difficile dare un contributo alla causa dei Lidenzi questa sera ma ovviamente può mettere minuti nelle gambe attenzione ora al Reina era Reina che non riesce a giocare in maniera efficace il pallone allora arriva di gran carriera Peretti il tocco è per Bonanni che poi con l'esterno cerca Reina che sbaglia il passaggio riparte Lefebvre dall'altra parte per Artistico in mezzo per Nolano sbaglia questa volta però Artistico uno dei pochi errori mentre poi Artistico Ringhia su Morosini avvelenato il numero 11 che prova anche lui sfidato da Mari cerca il pallonetto questa volta attento Scherzella proprio Mari autore della tripletta che di fatto decide la contesa questa sera alla Longarina ancora Artistico servito proprio da Mari viene messo a terra c'è un cartellino giallo estratto ai danni di Reina ennesimo ammonito tra le fila del Mr. Jeff quasi tutti procurati dagli strappi di Mario Artistico letteralmente incontenibile quando parte palla a piede con il proprio mancino calcio di punizione per il Cotton Club quindi con Nolano che probabilmente toccherà per Artistico vediamo che però si defila anche Nolano c'è la conclusione e il quinto gol c'è la conclusione direttamente da punizione e il quinto gol del Cotton Club ancora con Artistico Manita dei rossoneri di Mr. Pinna su un Mr. Jeff che dopo il 2 a 1 è uscito dalla gara prima mentalmente e poi nel risultato la formazione di Mr. Ricci ha accusato oltremodo l'1-2 dei rossoneri e arriva ora il triplice fischio del direttore di gara termina quindi così con il Cotton Club che rimonta di raga sul Mr. Jeff vince per 5 a 1 e c'entra il primo successo stagionale